Ma no, non è vero, ci sono le quattro ore osi, ho ricevuto un messaggio al 349 005 965 che dici devi sforzarti di più a trovare anche dementi al femminile, tutti i giorni trovi un dementi maschio così ci perde la categoria, vabbè, perché le donne sono più furbe, le donne non si fanno beccare però no, ogni tanto c'è qualche donna, dai, ogni tanto c'è qualche donna effettivamente però penso che a livello di sesso il maschio abbia vinto molte più volte in questo premio ambitissimo del demente del giorno 349 005 3965 fra poco, attenzione, cucinerò per te, per gli uomini, oggi è solo per gli uomini